Siamo giunti alla quinta, un miglio per anziani, i tre cavalli non corrono il sei di Putin di cielo, l'otto di Tornado, così viene a mancare il rapporto di scuderia che aveva col nove e il tredici. E proprio il nove è uno dei più gettonati, tuono crozza, ma molto seguito anche Saetero, che l'abbiamo visto una bella vittoria con il dottor Trudi, proprio qui a Dagnano poco tempo fa. Allineamento che va a completarsi ed è anche più che buono. Parlando della corsa di prima, ancora uno jet in evidenza, Vireo, via la macchina, usura. C'è l'errore del numero quattro, Seven Best, che si toglie di mezzo, e così Pireus al comando in diagonale con Saetero, lungo i birilli e Turbo Bye Bye, al completamento del lancio in tredici. Siamo al completamento della piegata, Sindal rimane a largo in terza ruota, poi ora diventa seconda. 28.3, 400, Sindal punta in avanti, pedinato come un'ombra da Red Ford, non è l'attore Robert. Cavali al completamento dei 600, a largo anche Puerto dei Greppi, 600 in 42.8 da 1.11.3. Cavali che affrontano la penultima curva, ha preso la via del largo anche Tuono Cross, ma è indietro ancora. Troverà un po' di traffico a risalire, mezzo miglio, in 58.5, i cavali sul penultimo rettilineo, non ci sono variazioni sostanziali per la categoria, l'andatura è più che accettabile, si affaccia Tuono, poi ritornano un'altra volta dietro al cavallo davanti. 13.5 il chilometro, 500 alla meta, i cavali affrontano la curva finale, con Pireus che tenta lo stacco a palo lontano, ma rimane al comando. Si va al completamento della curva conclusiva, Robert Red Ford a largo, di dentro Saetero. Tuono Cross trova un traffico infernale, ma cerca di venire via. Retta d'arrivo, Pireus comanda, ci prova il 12 di Red Ford, va in Carburation Tuono Cross, ma mi sa che è troppo tardi, poiché Pireus saluta gli amici e se ne va a vincere. La griffa del RAF, la griffa del RAF, la griffa del RAF. 1.58.3, 1.13.9, Pireus 4.87, era anche giocato questo allievo di Forino che vince veramente alla grande. Ecco le prime immagini di Pireus, mentre per il secondo, vedete, attendiamo il giudice d'arrivo che è sempre meglio, non si sa mai per non cadere in tentazioni. Linea allo studio. Secondo e Saetero. Secondo e Saetero.